In questo nastro. E qualche problemina nella ripresa e il nastro l'ha finito sotto il piede. Invece questo tipo può cambio di stazione, quindi di forma. Serpentine, Tilt, un susseguirsi, un fuoco, come ha detto giustamente Isabella da parte della Donda Cova, che fa esplodere l'Olimpico di Mosca, pubblico in piedi. Grazie a tutti.